e sul dinamico controllato, vai vado in side bend, quindi vado in inclinazione verso sinistra e vado, inspiro e torno vai, e 2, e torno, vai, e 3, e torno 2, e 8, e apri, vai, climb, destra e sinistra vai, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 si va, inspiro e fuori l'aria, roll over, sono qua gambe parallele, adesso sposto il bacino, vai scendo, controllo, 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 controllo disegno un semicerchio e ritorno con le gambe su, vai, inspiro e fuori l'aria inspiro, mantengo e fuori, 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 fuori e sono su, di nuovo, vai, e scendo, allungo, vai stendi bene le gambe mentre continui con il giro adesso ripiegale, scendi con il bacino in giù, il busto prosegue e vai chiudendo la gamba, giusto, da qui, equilibrio muscoli di pavimento pelvico, pronti, addome, contrai e torno, spingi indietro la gamba, il absos, allungamento, giusto e da qui, porta il petto verso la gamba, come hai poggiato le mani scivola indietro, stabilizza la posizione adesso, ok vai, libera il collo guardando verso lo schermo �? è è è è